Gimighione e Maria Laura De Vitis, l'ex fidanzata di Paolo Brosio stanno in Gimighione e Maria Laura De Vitis, l'ex fidanzata di Paolo Brosio stanno in E' questo il nuovo gossip che sta circolando sui giornali dopo l'indiscrezione lanciata dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi Lui 60 anni e conosciuto dal pubblico italiano per essere l'inviato di punta di striscia la notizia Lei 25 e una carriera televisiva fatta di reality show e ospitate nei salotti Lui 60 anni e conosciuto dal pubblico italiano per essere l'inviato di punta di Maria Laura, di Reggio Emilia, classe 1998 Ha partecipato alla Pupa e il Secchione nel 2022, all'Isola dei Famosi nel 2023 e nel 2020 Maria Laura, di Reggio Emilia, classe 1998, ha partecipato alla Pupa e il Secchione nel Ma la differenza d'età non sembra essere un problema né per Maria Laura né per il suo nuovo fidanzato G. Tra i due, infatti, ci sono ben 35 anni di stacco ma dopo tutto, Laura, quando stava insieme a Paolo Brosio, di anni di differenza ne avava e ban 42 Laura, infatti, si è laureata nel 2020 in Scienze della Comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia Dopo aver trascorso anche un periodo di studi a Valencia con il progetto, Gheone è stato sposato per 14 anni con Tania Paganoni dalla quale ha avuto due figli Gabriele e Federico Jimmy e Tania si sono poi separati nel 2016 e dal 2018 al 2022 l'inviato di Strescia è stato fidanzato con l'attrice russa Daria Jimmy e Tania si sono poi separati nel 2016 e dal 2018 al 2022 l'inviato di Strescia è stato fidanzato con la T2 I due, però, sono uscite allo scoperto solo nel weekend di Pasqua dove sarebbero stati avvistati a un torneo di Padella a Viareggio I due, però, sono uscite allo scoperto solo nel weekend di Pasqua dove sarebbero stati avvistati a un torneo di Padella a Viareggio Un post condiviso da Roberto Alessi Chiocciola Alessi.giornalista